Cenerentola in scena al Teatro della Fortuna per salutare il 2022 un musical per tutta la famiglia si è la tradizione che abbiamo dovuto abbandonare come sapete causa pandemia riprendiamo con questo spettacolo della compagnia dell'arancia per cui musical stra firmato e di garanzia però aperto tutti dai quattro anni ai 99 venite il 31 di dicembre alle ore 22 e spettacolo che durerà un'ora e ci sarà possibilità poi di farsi le foto con Cenerentola con il principe e poi tutti insieme in piazza per aspettare il nuovo anno